Nuove informazioni su Adrien Rabiot, il giocatore resterà alla Juventus? Rimani fino alla fine del video per capire. Altro prima, iscriviti al canale! E lascia il tuo like, per essere sempre aggiornato su tutto quello che succede alla Juve. Il rinnovo con Rabiot, è sempre più difficile, con il contratto in scadenza a fine stagione, è ancora senza una soluzione da rinnovare. In questa stagione, il giocatore ha partecipato. 16 partite, segnando 5 gol 2 assist, finora. La Juventus sta cercando di trovare un accordo per il rinnovo del centrocampista, ma da tempo non ci riesce. La nuova informazione, fa notare che il giocatore è intenzionato a rinnovare con la Juventus. Più il giocatore ha richieste. Il giocatore avrebbe chiesto un contratto triennale, 10 milioni di euro a stagione, contratto che difficilmente la Juve concederà. Se le pretese di Rabiot non si placheranno, il giocatore e la Juve si separeranno a giugno. Davvero troppo alta per la Juventus questa richiesta di Rabiot? Altro voglio sapere la tua opinione, la Juventus dovrebbe soddisfare le richieste di Adrien Rabiot? Sì o no la tua opinione è molto importante per la Juventus.